Sette giovani serbi bosniaci, facenti parte del movimento nazionalista Giovane Bosnia, pianificarono l'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono dell'impero austro-ungarico. Il primo tentativo in cui venne lanciata una bomba contro l'automezzo fallì. L'attentatore mancò l'obiettivo e venne arrestato. Non appena l'auto con a bordo l'arciduca prese una strada secondaria, Gavrillo Princip si trovò sul posto. Colpì a morte Francesco Ferdinando e sua moglie Sofia. Questo scaturì la crisi per cui l'Austria dichiarò guerra alla Serbia. E così la Russia rispose dichiarando guerra all'Austria. Le altre nazioni, costrette dalle alleanze, entrarono nel conflitto, facendo così scoppiare la prima guerra mondiale. Iscriviti per altri video sulla storia. Iscriviti per altri video – Iscriviti per altri video – Iscriviti per altri video Grazie mille! Grazie a tutti.